Ciao amico mio, ecco le offerte negli elettrodomestici che Eurospin propone per i Black Friday. Iniziamo con un televisore 24 pollici di marca Akai, a 90 euro invece che 95 euro. Indubbiamente è un piccolo sconto, però la classe energetica è, ma avendo 24 pollici, consuma comunque veramente poco. Poi abbiamo un altoparlante Akai, a 25 euro invece che 27 euro, qui lo sconto sono solo 2 euro, però corrisponde al 7%. Poi ancora abbiamo una lavatrice da 9 kg a 300 euro, marca Candy, però come vedi ha tanti programmi, e 9 kg veramente va bene per qualsiasi famiglia e riesce a lavarci ad esempio anche i piumoni senza andare, insomma, senza doverli portare in lavanderia. Ancora, se preferisci a 320 euro invece che 330 euro, c'è una lavatrice con la carica dall'alto da 6 kg. Questa è classe energetica C, la precedente era anche di buona classe energetica perché era B. Poi abbiamo un forno di marca Necchi, però da 45 litri, a 80 euro invece che 100 euro, quindi un bello sconto del 20%. Ancora abbiamo una macchina per caffè a 70 euro invece che 80 euro, uno sconto del 13%. Vedi anche il montate di marca Thermo Z, quindi un'ottima marca, è veramente che puoi usare col caffè, non con le cialde, quindi risparmierai un sacco di soldi, non solo con le cialde, insomma. Poi a 230 euro una lavatrice di marca Dyer da 8 kg. Va detto che per lo stesso prezzo ti danno anche quella, se preferisci, da 7 kg. Però secondo me è meglio averla un po' più grande. Se preferisci, 350 euro, marca Candy, una lava asciuga. Lava 8 kg e asciuga 5 kg. Ovviamente la classe energetica non è un granché, perché la lava asciuga, come sai, ha D ed E. Però non mi sembra che consumi molto. Poi se hai una famiglia veramente grande, c'è la lavatrice A da 12 kg a 370 euro. Ed è di classe energetica A addirittura. Beh, questa, se la famiglia è grande, oppure se lavi molte cose, se sei di quelle persone che lavano a pieno carico, veramente conviene e conviene anche molto.